Ad ognuno di noi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di sentirsi inopportuno, ragazzo da tappezzeria, fuori da determinate meccaniche, fuori da determinate regole, appunto come dico io, fuori dal mondo. Talvolta sembra quasi che tutto il mondo si sia messo d'accordo per agire diversamente da come agiamo noi. A quel punto noi ci sentiamo sbagliati, appunto inopportuni, anormali. Ma questa sensazione è legittima. In questo video lo scopriremo. Che cos'è la normalità? Come possiamo definire un'azione normale? Dobbiamo forse presupporre che un'azione normale sia forse un'azione compiuta dalla maggior parte delle persone. No, non funziona così. Dal punto di vista proprio etimologico, un'azione compiuta dalla maggior parte delle persone è un'azione che segue la moda. Ed il modello che viene seguito prende il nome di stereotipo. Nella lingua parlata comunemente, genericamente, si associa la parola stereotipo, stereotipato a qualcosa di negativo. In realtà non è così, o perlomeno non è sempre così. Esistono degli stereotipi positivi ed esistono degli stereotipi negativi. Ovviamente capirete benissimo che la persona che va a seguire un stereotipo positivo avrà dei benefici, una persona che segue uno stereotipo negativo avrà dei malefici. A questo punto quindi ci si chiede, ma quindi vale la pena seguire determinati stereotipi inventati da altri, detto che io potrei andare in errore. L'abilità e la maturità dell'essere umano deve essere quello di seguire e apprezzare e imparare dai modelli che sono positivi, mentre rigettare i modelli che sono negativi. Tuttavia ci sono dei modelli in sé per sé che non sono né negativi né positivi. Per fare un esempio, in Italia, con la cultura del calcio così erradicata tra di noi, diciamo lo stereotipo è che il ragazzo maschio segua il calcio. Questo in sé per sé non è negativo né positivo, nel senso fondamentalmente una persona può decidere di seguire il calcio o meno e non porta né benefici né malefici. Il problema vero qual è? Che in ogni gruppo che segue un determinato stereotipo la minoranza che non segue questo stereotipo è tipicamente discriminata. E' questo il vero problema di tutta questa situazione. E' questo che comporta la sensazione di sentirsi fuori dal mondo. E ora quindi proviamo a rispondere al quesito che ci chiedevamo all'inizio. Ma agire diversamente dalla massa può bastare per farsi sentire anormali, per farci sentire sbagliati? Guardate, questa è una cosa molto delicata che non si può esprimere in poche parole. Sarebbe tantissimo da parlare in questa cosa. Tuttavia la cosa di cui sono fermamente convinto è che è sbagliato seguire sempre la massa così come è sbagliato agire sempre di testa propria. La verità sta nel mezzo. Bisogna avere l'abilità di comprendere i modelli giusti da seguire, di comprendere i modelli che possiamo seguire o meno e di capire quando sono determinati i modelli invece da tralasciare e che dobbiamo agire di testa nostra. Chi segue sempre gli altri, come dice Oscar Wilde, non arriverà mai primo. Mentre invece chi fa sempre di testa propria fondamentalmente è un anarchico. Sono una ragazza che gioca i videogiochi. Quando mi capito di parlarne con qualcuno l'espressione che ritrovo alla notizia è sempre quella di qualcuno sorpreso o comunque varia secondo le persone. A dire la verità questa cosa non è semplice perché non posso condividere la mia passione con persone dello stesso sesso. Cioè sia una netta minoranza però ogni volta che parlo con qualcuno di videogiochi loro magari non ne sanno niente oppure parlano di borse scarpe che sono naturalmente gli argomenti più gettonati fra le donne. Quindi cosa c'è che non va? Questo mi rende davvero ferito al mondo. Il fatto di essere una ragazza videogiocatrice a cui piacciono le ambientazioni dei giochi, a cui piacciono i personaggi, le storie, le avventure. Tramite queste riesco a vivere dei momenti indimenticabili che non avrei potuto vivere in altro modo. I giochi insegnano tanto. Però vi faccio un esempio. Io ho un fratello maggiore e questo mi vede sempre come un topolino da biblioteca con gli occhiali, con gli occhiali molto più grandi della sua faccia. A volte mi prende in giro perché mi vede come una ragazza che sta sempre dietro un pc, un po' come una sociale. Perché magari è capitato qualche volta che lui mi chiedesse delle notizie su dei giochi e io sapevo rispondergli subito. Oppure consigli. E io dicevo, ah guarda questo gioco l'ho già scaricato, prendendolo diciamo in castagna, così dicendo, aha io già l'ho fatto. Siccome a volte è capitato che questa cosa l'ha fatto sentire un po' più, un po' meno mascolino diciamo. E continuo a prendermi in giro per questo. Non è semplice perché essere una ragazza videogiocatrice non è sempre un vantaggio. A volte vengo presa anche in giro per questo. Perché sono una ragazza e perché gioco, perché ho la passione di giocare, cosa c'è di male. Allora questo mi rende davvero una persona fuori dal mondo perché amo i giochi. Credo che i giochi mi hanno insegnato davvero tanto. Skyrim per esempio ha insegnato che i draghi non esistono ma che questi possono essere combattuti. Grazie a tutti.